La mia casa è aperta per tutti, benvenuti tutti, ora stai repassando, ora mi sono bella, ma la vita è che non ha campagna, non c'è la paese, quando mi lavava la carne era 13 anni, all'epoca guardavamo piccoli e noi facciamo pure pomodoro, tutto, lo sai com'era la giornata? Si cantava, mangiava, se no dalla terra facciamo, cantavamo raggiolo, orano, pomodoro, ave, tutto facciamo, dalla terra veniva tutto, guancini veniva l'acqua dalla terra e sottaterra poi veniva l'acqua, poi veniva il rano, l'olio, il pane, la verdura, la frutta, tutto dalla terra scoppia. La vita è in campagna, venivamo e faticavamo, partiamo la mattina e ne ricogliamo la sera, e poi avevamo gli animali puri, io pure l'animale, non ho coglione l'animale, avevamo 300 più. 25 anni in campagna, poi mi da veniva, sai come mi da veniva? Mi moro un uggio a 22 anni, muovi due, quando ho accettato io a Garaffa, che ero vicino a Garaffa, ora che io quando erano tanti amici, quando un motocarro si capottavo. Io ho accettato, io ho accettato, io ho accettato il mio figlio. Cos'è per un po' Si non è, a mattina mi ho accettato una cucciata, è la ta. Io non ho abbandonato mai la fede, non è la carità pura, si è po' ciò a fare, si è quando una vaca mi sa, non mi ha capito, non mi ha capito. E mi sento bene, quando io faccio del bene mi sento bene dentro. Come ti senti tu quando hai del bene? Perfetto. Ah, posso mamma mia. Già. Con il giorno venite? Sì, che passiamo. Passate. Sì, che passiamo.